Ecco, e poi c'è il femminicidio, la violenza contro le donne, in quanto donne, la violenza mascherata d'amore. E anche qui, come viene riproposta all'opinione pubblica questa condizione di vittima per mano di chi dovrebbe amarla? Come viene riproposta? Spesso raccontando l'assassino come in preda ad un raptus. E allora presentare un assassino come un uomo in preda ad un raptus vuol dire in qualche modo attenuare la gravità del suo gesto. C'è una attenuante, il raptus, un momento di follia. Se non fosse che però le statistiche ci dicono un'altra cosa, che il 70% di quelle donne aveva chiesto aiuto, aveva denunciato. Quindi non c'è nulla di sopraggiunte di nuovo. Era nota la condizione di pericolo in cui viveva quella donna. Quindi io ritengo che non possa essere descritta la situazione in cui una donna viene uccisa per mano di chi dovrebbe amarla come un raptus, perché non lo è quasi mai e non è quasi mai un'emergenza. Ma è profondamente diversa la situazione. Si tratta della conseguenza di una mentalità, di una concezione della donna. E quindi io ritengo che debba essere rappresentata come tale l'uccisione di una donna come appunto la volontà di sopraffazione dell'uomo che non si arrende a essere lasciato, che non si arrende a avere magari figli poche volte al mese e quant'altro.